Musica Benvenuti pagliacci e pagliacci in questo nuovissimo video Con me Gozzo Benvenuti tutti quanti a bomba In uno dei video che vi piacciono tantissimo Perché siamo qui Questo oggi con Ronaldo Junior In quella tipologia di video che amate tutti quanti Infatti sapete già che da un post Ho fatto anche il video ragazzi C'è lo spopolamento diciamo Non so come spiegarvelo bene Del fatto di Momo, del telefono, di Whatsapp e queste cose Quindi Ronaldo Junior ragazzi Oggi ne verrà a conoscenza Ma ovviamente sapete come lui Lui prende tutte le situazioni di petto E non gliene può fregare assolutamente niente Di quello che fa Per cui non perdetevi Ronaldo Junior contro Momo Episodio speciale che Questo qua diciamo ragazzi è stato registrato un po' di tempo fa Però lo avete caricato solamente oggi Perché ci sono stati dei problemi di organizzazione di video sul canale Però insomma l'importante è che possiate vederlo Quindi mi raccomando Come mi piace Iscrivetevi Condivete il video con i vostri amici Perché vi ricordo che a fine video Saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram Per cui se volete Potete avere la possibilità di essere soltati anche voi Basta che cercate Chiocciola Realentoni ragazzi Che trovate qui in descrizione Mi vente a seguire E avrete la possibilità di essere salutati In tutti i prossimi video Quindi mi raccomando che vi aspetto Passateci perché è molto molto importante Quindi Yo Ciao ragazzi Guerrondo Junior Escrivere in questo nuovo episodio speciale Specialissimo Perché questo Si fa parte della vita reale da bambino ragazzi Ma è un episodio prettamente speciale Che riguarda il fatto di Momo E queste cose qua Che già conoscete Se avete visto il mio video In ogni caso Per chi non ha ancora visto il video di Momo Che ho pubblicato sul mio canale Andate a vederlo Perché ve lo lascio in descrizione Dove c'è scritto Video Momo Due punti Quindi non potete trovare facilmente E per chi non lo sa ancora ragazzi Momo è un fenomeno Che c'è stato su Whatsapp Che adesso ci spiegheranno Perché Ronaldo Junior Ancora non sa niente Noi venuti qui al parco A giocare con i nostri amici E schiare Oh però quando arrivo Mi dovete cagare Albert, Francis, Alex e Francesca Perché state tutti col telefono? Oh fra ma che sta succedendo? Perché stanno col telefono? Mi sono perso qualcosa Che cazzo sta succedendo? Ragazzi il nostro amico ci sta dicendo che Non sappiamo di Momo No che cazzo è Momo Non sappiamo niente Cioè sì lo sappiamo Ronaldo Junior non lo sa Quindi ora Lo spieghiamo Ok ragazzi il nostro amico Sta spiegando a Ronaldo Junior Ovviamente che è Momo Che è una specie di mostro Che è una specie di leggenda Che dice che Se tu gli scrivi su Whatsapp Lui ti verrà a prendere E ti ucciderà Ti porterà E tu sparirei dalla faccia della terra E ha detto che tutti stanno provando Cioè sta girando il giro il numero E che solo noi non l'abbiamo No infatti solo noi non l'abbiamo Datemi sto numero Che voglio provare a scrivere un messaggio anch'io Perché sono tutti col telefono A scrivere il messaggio Anche se ha detto che Nessuno ha avuto il coraggio ancora di mandarlo Perché hanno tutti paura E che qual è il problema? E che ci vuole? Qui c'è il mitico Ronaldo Junior Che fa tutto Porca miseria Mi sto per far esplodere la tetta Allora potremmo scrivere Che ne so Ciao Momo Sono il mitico e unico Ronaldo Junior E poi ti mettiamo un eschere gigante Infatti Ronaldo Junior sta scrivendo La stessa cosa che ho pensato io Perché ormai diciamo Siamo talmente in sintonia Che penso che l'unica cosa Che potesse scrivere A Ronaldo Junior E fosse stata questa Avete visto ragazzi Che l'ho scritto veramente L'ha mandato L'ha mandato ragazzi Ronaldo Junior Attenzione Ha mandato il messaggio Io non capisco Perché c'hanno tutti questa faccia impietrita Al bet che non so Vuole allontanarsi E Francis e Alex Alex mi sta dicendo Non hai idea Del guaio in cui ti sei cacciato E anche ragazzi Francis sta dicendo Che non dovevamo farlo Adesso siamo fregati E moriremo Ma ragazzi Ma veramente state facendo Veramente state scherzando Vi ricordo che ho affrontato Il pagliaccio di Hit Il tizio di venerdì 13 Jason Ho affrontato Chiunque Posso affrontare anche sto pagliaccio Non so Vabbè pagliaccio è stato ironico Francis continua a dire In perterrito Che quest'altro Non si tratta di Hit Di qualcos'altro Ma che questa volta È una cosa abbastanza seria E anche Alex È seriamente preoccupato per noi E Albert Stranamente Non parla proprio Cioè Lo vedo strano Ok Sinceramente Quando fanno così I miei amici ragazzi Mi fanno un po' incazzare Anche perché L'ho fatto davanti a loro Cioè pensavo fossero uno scherzo Per farli divertire Ma A quanto pare L'hanno presa troppo seriamente Cioè Abbastanza seriamente L'hanno presa la cosa Va bene A quanto pare Allora Facciamo una cosa Vedrete quando domani Sarò ancora vivo Che nessuno mi verrà a rompere Dato che voi non avete avuto Il coraggio di mandare il messaggio Ragazzi Ronaldo Junior Sarà ancora vivo Quindi Voi Sì fate pure Fate pure Pensatela come volete Me ne vado Ma Quando fanno così ragazzi I miei amici mi fanno innervosire Tutti gli amici Vi fanno innervosire Quindi ragazzi A quanto pare Ronaldo Junior L'ha fatto per davvero Ha mandato un messaggio a Momo E diravate tutti i testimoni E adesso si Però aspetta Non so che cosa Per Ronaldo Junior Quindi non perdetevi il video Perché Ronaldo Junior Avrà seriamente da fare Penso adesso Va Ragazzi Vi dirò la verità Io a queste cose non ci credo Tant'è che sono arrivato Anche in colume a casa E E sto benissimo Tra l'altro c'è un servizio Di sicurezza assurdo In casa mia Altra Telecamere fuori Telecamere dentro Un'altra telecamera fuori E Oh papà perché ha tolto tutte le macchine Vedete ragazzi Questa è una fortezza Inespugnabile Sono anche tornate le vecchie guardie A quelle cazzute Che sono sopravvissute Quando venne Trevor A far casino Per cui Io ragazzi Non c'ho paura da niente Ronaldo Junior È invincibile Raga E schere La mamma e il papà Stanno guardando incessantemente Il panorama Che non metto in dubbio Che sia bello Però papà Tu metti Tornati presto per mangiare Ragazzi Li vedo imbambolati Ma Non so Vi siete drogati Avete qualcosa che non va Ragazzi Non sappiamo Che diavolo hanno La mamma e il papà Noi aspettiamo Perché Adesso dovremo mangiare Quindi mamma Papà Vabbè Io vado Vado Mi vado a mettere a tavola Ok ragazzi Abbiamo cenato Qui La mamma e il papà Mi stanno dicendo Che oggi sono un po' strani Non capisco che diavolo hanno Forse papà È arrabbiato Che sono tornato tardi In questo periodo Non so Papà Ha detto E mamma Ha detto Che vanno a dormire Di non fare tardi Che Vabbè Non vogliono Che Cioè loro Non vogliono Che io stia Fino a tardi A giocare a fortnite Perché adesso Mi metterò a giocare a fortnite Sì papà Vai a letto E fai le tue cose Con la mamma Dai a me Fammi giocare un po' Forse mamma e il papà Hanno ragione Vabbè Sono già andati a letto Cioè non mi va sinceramente Di giocare tanto Nel senso Siccome a fortnite Ragazzi mi fa Sclerare Volevo evitare di giocarci Anche perché la mamma e il papà Mi dicono di fare sempre silenzio Durante la notte Perché ci potrebbero essere I vicini che rompono Loro si svegliano E quindi Vorre ne evitare Chiare d'acqua E me ne vado direttamente a dormire Che cazzo è Oh Che cazzo Oddio Papà C'è un'intrusa in casa C'è un'intrusa in casa Oddio Ho preso 200 Tramato Junior Che diavolo era quello Oddio papà Possibile ragazzi Che abbiamo visto bene Tramato Junior ma No ragazzi Non è possibile Allora O ho Ho le allucinazioni O ho le allucinazioni Fermati qui Fermati qui Papà non è che Cosa ancora Che paura Che paura Che paura Cosa ci fa Quei qualcosa Ragazzi Oh mio dio E la seconda volta Che c'ho le allucinazioni Basta io vado a farmi un giro Forse Sto rincoionendo Forse è l'aria Anzi chiamo le guardie Va che faccio prima Ma sono scemo io ragazzi Posso chiedere aiuto alle guardie Che le guardie mi aiutano sempre Ehi guardie Potete venirmi Che cazzo Sta succedendo Che sta succedendo In questo mondo di merda Che sta succedendo Basta Apreti cancello Apreti Via via Paura 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 Mi sto cagando addosso Ma che sta succedendo Che sta succedendo Che diavolo Come come è possibile Come è possibile Che qualcosa Mi è venuto a trovare What the fuck C'è qualcosa che non va ragazzi Mi è comparso Quella specie di mostro schifoso Che i miei amici Mi hanno Allora O ci sono organizzati i miei amici Per farmi uno scherzo Oppure sta succedendo qualcosa Di pessimo gusto In ogni caso Sto andando a farmi un giro Perché C'è qualcosa che non va in casa Mamma e papà non ci sono Non c'è nessuno E mi sto cagando addosso Quindi ragazzi Forse è meglio Prendere un po' d'aria E andare a fare un giro In città Ragazzi Ho deciso di venire qui Nella strada più trafficata Di Los Santos Stando che il problema È che non c'è un cane Nella strada più trafficata Di Los Santos A mezzanotte Perché è quasi mezzanotte Mi faccio una passeggiata Infatti ragazzi Già sto meglio Non vedo Non ho più allucinazioni Non ho più niente Anzi forse dovrei parlare Con qualcuno Se lo trovo Oh mi scusi signore Le andrebbe di farsi una chiacchierata No E sa perché Penso di essere impazzito Signore Che cosa è Ancora Ancora qualcosa Oddio che paura Oddio Oddio Un altro Oddio che paura Che cazzo Che Non so con che parole Di scrivere quello che sto vedendo Oddio Quanti ce ne sono Oddio Oddio No Scappa Ronaldo Giulio Scappa Scappa Nasconditi qui dietro Dietro l'albero Non ci sono più Oddio ragazzi Ma che sta succedendo I miei amici non avranno mica ragione Ronaldo Giulio Ma che sta succedendo Ok Ragazzi calma Sangue freddo Forse siamo solo impazziti Non lo so Non ho idea Però forse i nostri amici Ci avevano avvisato A mezzo di non farlo Ma ragazzi Io come faccio a capire E capire che Con un messaggio Ti può succedere tutto questo Cioè pensavo fosse Una cavolata Del momento Fatta tra amici Ok Qui ragazzi Sembra essere tranquillo La situazione Metto un attimo qui E cerco di fare il punto Della situazione Magari provo a chiamare Albert Provo a chiamare qualcuno Ok ragazzi C'è un problema Sono spariti tutti i miei contatti Dalla rubrica Non ce n'è nemmeno uno Quindi a questo punto Penso che o torno indietro O torno indietro E cerco di ritornare a casa Vediamo Cosa Mi prego Non fatevi del male Mi prego Oddio Quanti sono Oddio Non lo faccio più Non mando più messaggi a nessuno No Aiuto Mi fanno paura Mi fanno paura Aiuto Aiuto Non voglio guardarli Non voglio guardarli Aiuto 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 Sono scappato Quanti sono ragazzi C'è un'orcia piena di persone Qui Quanti sono Aiuto Aiuto Oddio Pronto Giulio No Non riesco a uscire Non riesco a uscire Oddio Che sta succedendo Sono imprigionato Ok ragazzi L'unica cosa Posso provare Colpo 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 Oddio Oh Oh Ma Siamo nella nostra camera Ma che Diavolo What the fuck Ragazzi Non ci sto capendo niente Ma che sta succedendo Ma non avrò mica Preso una maledizione Di quelle pesanti Che non posso più togliermi Oh mamma Ok ragazzi La situazione sembra essere calma Per il momento Quindi Non ho idea di Cosa fare a questo punto Spero che Non Forse vado fuori Vediamo fuori Se anche fuori la situazione è calma Si Ragazzi fuori è buio ovviamente Perché tutti dormono Ma La situazione è direi che è più che calma Se il video vi è piaciuto ragazzi Volete una seconda parte Dove le cose vanno avanti Perché questo è stato un episodio Speciale Particolare Quindi Se volete una seconda parte Scrivetemi nei commenti Cosa vorreste vedere E tempestate il video di Mi piace Ovviamente Iscrivetevi così Non vi potete perdere Il prossimo episodio E la continua anche Di questa parte Per voi Come promesso Saluto gli ultimi 5 di voi Su Instagram Ragazzi Come faccio in tutti i video Voglio salutare Marco 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 9668 Felice Luigi Elia Milan Tutti i prossimi video Quindi mi raccomando Di passarci ragazzi Così Neanche se è veloce E lo potete fare Direi che per questo video è tutto Fatemi sapere se vi è piaciuto Se volete una seconda parte Anche perché penso che Momo Non sia contenti Solo di questo Fatemelo sapere anche voi Nei commenti Come Gozzo Grazie a tutti per la visione Ci becchiamo Ad un prossimo video Ciao Ciao